buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale oggi vi farò vedere la mia prima video di ricetta dove preparerò un biscotto vegano proteico il classico complete cookie allora gli ingredienti che andremo a utilizzare sono 30 grammi di froseine in polvere qualsiasi marca e qualsiasi gusto va benissimo a vostra scelta io ho deciso di usare queste della by powders gusto fragola 15 grammi di farina di avena 30 grammi di banana 15 grammi di tahini o qualsiasi burro di semi o di frutta secca che avete 5 grammi di semi di lino 45 ml di latte di mandorla senza zucchero e un pizzico di lievito per dolci ora in questa tazza andrò ad unire prima gli ingredienti secchi ovvero proteine farina di avena e semi di lino poi a parte unirò tutti gli ingredienti liquidi e dopodiché unirò sia secchi che liquidi insieme grazie a tutti Dopo che è costo 15 minuti in forno, a 180 gradi, aspettate un po' che si raffreddi, ed ecco qua il nostro compito cookie. È quasi quanto la mia testa, potete anche decidere di arricchirlo con gocce di cioccolato, uvetta, frutta secca, insomma a vostro piacere. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, lasciate un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.